Inizia la raccolta delle storie che ci legano al cinema storia e andremo a sostituire con cadenza regolare, proprio come si faceva con i cartelloni in questo cinema, finché è stato attivo, una nuova storia per ogni nuova uscita. Quindi richiamiamo i riminesi e le riminesi a lasciarci il loro ricordo, il ricordo che li lega a questo luogo, che non è mai solo un luogo.